Ritorniamo in diretta, Voce delle Chiese continua il suo viaggio e io do subito il benvenuto al nostro ospite Andrea Giraudo, membro del seggio della Società di Studi Valdesi. Buongiorno Andrea, benvenuto su Radio Beckwith, ciao Buongiorno a tutti e tutti, grazie dell'invito. Grazie a te della disponibilità. Ti abbiamo interpellato Andrea perché abbiamo scoperto una notizia andando un po' a curiosare sui vari siti, in realtà ce l'hanno anche segnalata alcuni ascoltatori e ascoltatrici, segno che già insomma si sta diffondendo questa notizia di un bando, di un bando per l'assegnazione di contributi di ricerca che la Società di Studi Valdesi ha lanciato. Di cosa si tratta, qual è un po' l'obiettivo della Società di Studi Valdesi e quali temi intende affrontare, toccare, lambire questo questo bando? Raccontaci. Beh, innanzitutto mi rallegro che la notizia sia circolando, sia giunta, vuol dire che abbiamo fatto anche un buon lavoro di promozione. Giusto. Ma allora, la Società di Studi da sempre è attenta alla promozione di ricerche che intercettino gli interessi previsti dal suo statuto e con una particolare attenzione direi ai giovani ricercatori e le giovani ricercatrici, anche al fine di favorire appunto l'avvicinarsi di queste persone alla società, ai temi su cui noi siamo particolarmente attenti. E appunto dicevo la società lo fa da sempre, da moltissimo tempo, in forme diverse. Negli anni sono state sperimentate diverse forme di sostegno alla ricerca. Da qualche anno abbiamo avviato nel seggio una riflessione su quale potesse essere il metodo migliore, tenuto conto del contesto che muta sempre, e questo che è appunto il bando che citavi tu, ci è sembrato quello che potesse meglio rispondere al contesto, alle sfide del presente. Il bando è disponibile appunto online, sulla nostra pagina, il nostro sito, anche sulla pagina Facebook. E cosa si propone di fare alla società? Ma si propone di offrire un contributo in denaro, fino a 10.000 euro, per delle ricerche di durata massimo annuale, ma non sono escluse a priori quelle che durino di meno, sui temi che sono quelli di interesse statutario della società. E quindi il nostro, diciamo così, core business, che è la storia valdese della riforma, ma anche le varietà linguistiche presenti nell'area delle valli, e le peculiarità culturali e antropologiche dell'area, ma pure gli aspetti naturalistici e ambientali delle valli, in questo caso con un'ottica giocoforza un pochettino più allargata alle Alpi dell'Ovest. E per quest'anno, cioè per l'anno 2024, il seggio ha deciso di appunto bandire questo contributo per ricerche su le varietà linguistiche e le peculiarità culturali e antropologiche dell'area. E poi a rotazione. Quindi se capisco bene, sono tre ambiti che appunto a rotazione ogni anno vedranno ecco il essere presenti. L'obiettivo quindi di proseguire, non è se si limita solo al 2024 questo bando. Esatto, esatto. L'obiettivo è appunto di un obiettivo di lungo respiro, cioè una rotazione triennale su quelli che ci sono sembrati i tre, diciamo le tre macro aree più rilevanti e che di anno in anno si alterneranno in maniera da riservare l'interesse diciamo principale della società che appunto la storia valentina della riforma, ma ecco coprendo anche altri settori che ci sembrano interessanti. Il target a cui avete pensato qual è? Un target di universitari, di dottorandi, di ricercatori? Ma allora il target di per sé ne siamo aperti a tutti e a tutte. Non esistono, come appunto chi leggerà il bando se vorrà vedrà che non esistono preclusioni, certamente il seggio ha deciso che a parità di, eventuale parità di punteggio nella graduatoria che stileremo tra le varie proposte che ci sono pervenute, il seggio darà precedenza a ricercatrici e ricercatori o comunque persone più giovani e nello specifico, una cosa molto importante da dire a mio avviso, si preferirà chi non ha, non può godere di un impiego strutturato nel mondo della ricerca, quindi appunto universitari, giovani ricercatori precari, dottorandi, borsisti di vario genere eccetera eccetera, però ecco non è detto che sia solo lì il bacino da cui pescare. Certo, non vi ponete limiti se non poi in una successiva fase di analisi. Sul sito società di studi valdesi, che il sito è studivaldesi.org, c'è il pdf completo, insomma la domanda, ci sono tutti i dettagli, dacci qualche informazione magari di tempistiche e poi invitiamo tutti coloro che saranno interessati o interessate ad andare direttamente sul sito studivaldesi.org scaricarsi proprio tutti i vari elementi utili per poter presentare domanda. Allora, il bando scade a fine mese, per cui affrettatevi, scade a fine mese e immediatamente dopo il seggio della società si riunirà, valuterà le proposte e comunicherà appunto gli esiti e le ricerche, la ricerca o le ricerche nel caso in cui appunto ne valutassimo come ammissibili più d'una che magari chiedono un finanziamento inferiore partiranno dal primo gennaio, a decorrenza del primo gennaio e si concluderanno appunto non oltre la fine del 2024, ciò non toglie che si possa anche finire prima se una ricerca viene proposta per un risonte temporale più breve. Naturalmente, come anche specificato nel bando, se il o la proponente della ricerca per qualche motivo documentato non potesse iniziare il suo lavoro al primo gennaio, ecco, si può fare, cioè tra documentati i motivi la decorrenza può essere spostata un po' più in là, però queste sono le due tempistiche. Bene, quindi entro novembre 2023 bisogna presentare la domanda? Esatto, sì, entro novembre 2023 entro a fine del mese Certo, c'è il 30 novembre Allora ricordo quindi che per il 2024 questo contributo andrà appunto per proposte riguardanti il patrimonio culturale delle valli valdesi se qualcuno fosse interessato può visitare il sito studivaldesi.org immagino possa anche fare domande insomma chiedere maggiori informazioni maggiori dettagli direttamente alla società di studi valdesi. Andrea c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere a questo proposito? Mi ringrazio per l'ospitalità, rinnovo l'invito a partecipare a questo bando e auguro un buon proseguimento a tutte e a tutti Grazie, grazie a te per essere stato con noi, in bocca al lupo a tutti coloro che vorranno partecipare a questo bando per l'assegnazione di contributi alla ricerca proposto dalla società di studi valdesi ringrazio Andrea Giraudo che è stato con noi in collegamento e buon lavoro anche a te personalmente Grazie, grazie. Alla prossima, ciao